Aù, ma vedi questa che cazzo di casa che c'ha? Eh? Ma... siamo sicuri? Ah, un'altra volta, dai e su, non ti fai pippe mentali, se stiamo solo a divertire. Forza, su, dai, dai, dai. Vabbè, va. Tanto il cannone carico nei pantaloni ce l'ho, dai. E quello ce l'ho pure io. E poi un po' di tempo e non lo faccio divertire. Sì, 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 con questi momenti di transizione poi... Ma comunque è meglio così. Sì, perché almeno ce l'ho sempre bello carico e con quello risolvo ogni problema. Fidati. Allora che faccio? Squillo? Eh? Squilla. Oh, ha squillato, eh? Andiamo, dai. Eccolo. Dai, 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 dai. Che fai, avanti te? No, 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 no. Vai tu. Oh, non rompe il cazzo. Questo lo paga io e tu va avanti. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Ciao, ragazzi. Ciao. 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 Allora... Questa è la stanza per aspettare. E vela? Ci sta la stanza per scopare. Ah, non mi chiedete cose due, eh? Perché succedono sempre dei cassini. No, no... Allora... Chi comincia per primo? Lui! Mettetevi d'accordo, no? Inizia lui. Va bene. Sbagliati, tesoro. Puoi mettere le tue cose su quella serie? E quanti anni hai? L'età non è un problema. Il fatto che è la prima volta che vado con una... ...guarda che sono come tutte le altre donne, eh? Lo vedo. Ok, adesso basta con l'avocca, perché sennò consumiamo tutta la vasolina. Ok. Vuoi che mi metta pecorina? No, metti di sotto. Ok. Senti, basta, basta, non è cosa. L'ora è aggiornata. Lasciamo stare. Ascolta, tesoro, guarda che il prezzo non cambia, eh? E vabbè, non fa niente. Fa entrare l'amico mio, intanto eventualmente entro dopo io, se mi va. Ok. Ok. Ehi tu, che cosa fai? Curio, siamo un po' in giro. Tocca a te. Il tuo amico lì ha detto che per ora non se la sente. Allora, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh! Oh! Puttanea! Sapevano fingere un orgasmo anche mentre fanno un uncinetto. In qualche modo è riuscita a farmi venire. Fame però! No! Cane da sopra ammobile. Il ciclo la farà pagare pure 30 euro in più per farlo mangiare. Ah!